Salve a tutti, in questo video vediamo come unire due o più clip insieme, audio e video. Allora, come potete vedere qua abbiamo tre clip video e tre e due clip audio. Questa è la solita musica, questo è il solito video di Vision 2, questo è un altro video. Vediamo che cosa possiamo fare per unire insieme tutto quanto. Allora, primo sistema, trascinare con il tasto sinistro del mouse per fare un rettangolo, selezioniamo tutte le clip video, tasto destro, raggruppa. In questo modo non viene creata una clip unica, però vengono trascinate insieme, come potete vedere. E anche applicare un effetto a una delle tre equivale a applicarlo a tutte e tre. Ecco qua, modifica a nulla. Allora, adesso faccio tasto destro separa, quindi in questo caso possiamo velocemente separare le clip. Vediamo l'altro sistema che consiste nella nidificazione. Ancora, seleziono tutte quante le clip, tasto destro, nidifica. Ok. In questo modo è stata proprio creata un'unica clip. Se ci facciamo doppio clic sopra con il sinistro, però andiamo nella sequenza nidificata e qua possiamo vedere le singole clip. Quindi gli effetti possiamo applicarli sia qui, sia qua, a questa sequenza nidificata. Quindi se io applico una sfocatura veloce qua, l'ho applicata a tutte e quante le tre clip che sono dentro la nidificazione. Uguale qua per l'audio. Posso fare così. Tasto destro, raggruppa. Oppure nidifica. Ok. Ecco fatto. E ovviamente, ora torno indietro, ctrl z, posso anche mettere l'audio sotto il video, in questo modo, e fare tutto insieme. Quindi tasto destro, nidifica, ed ecco qua. Quindi abbiamo un'unica sequenza nidificata che ha racchiuso audio e video insieme. Quindi questo è come unire due o più clip. Un saluto a tutti.